In teoria non dovrebbe esserci, perché la sensibilità artistica e creativa credo che sia comune a entrambi, poi da insegnante mi rendo conto che, anzi mi trovo più spesso a dover ragionare queste cose con allievi, che allievi, in quanto la quantità di miei allievi sono superiori ai maschi, agli uomini maschi. No, questo tema è un tema che è molto vivo anche nelle mie lezioni, in teoria non dovrebbe esserci nessun problema, capisco che l'elemento femminile ha molti aspetti legati a una certa sensibilità che per il maschile è un po' una lotta di conquista, perché lo vedo su di me, mi rendo conto quanto il mio lavoro a volte sconfina da una parte all'altra, con certe sensibilità più femminili che maschili, ed è chiaro che questa cosa spesso nelle mie discussioni, anche personale, emerge come riflessione ad alta voce o anche a bassa voce dentro. Sì, in teoria non dovrebbe esserci, cioè non dovrebbe esserci, perché credo che la creatività sia una condizione umana e non di un genere, come il fare pratico non dovrebbe essere un genere. È un tema che utilizzo molto, mi piace discutere su questa cosa, anche perché soprattutto quei miei studenti maschi, il dover perdere una parte, o convinti di perdere una parte per acquisire una sensibilità più femminile, a volte li disturba, però credo che un vero artista debba fare un po' i conti, un po' con la sensibilità, poi è chiaro che c'è un sentire più femminile, quello forse sì, un sentire femminile più... anche legato a certi aspetti della follia, piuttosto che alla creatività pura, all'invenzione. L'elemento maschile tendenzialmente tende a fare i conti un po' sulla parte pratica del fare, come se fosse prerogativa di... ma io credo che... cioè se dovessi fare un ragionamento per sintetizzare un po', in teoria non dovrebbe esserci questa cosa. Ci sono individui che hanno percentuali diversi di un e dell'altro e credo che l'arte debba saper muoversi su tutti i livelli. Credo che sia così. Poi vabbè, sono tutti temi che dovrebbe avere più aspetti da analizzare, però è un bellissimo tema questo.